Il mandato esplorativo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato al Presidente della Camera Roberto Fico ha avuto esito positivo. Adesso il Movimento 5 Stelle, dopo aver dichiarato di aver chiuso i rapporti con il centrodestra di Salvini, si appresterebbe a dialogare col PD per fare un governo. Certo, è tutto da decidere, ma se con il PD non si troveranno accordi, per Di Maio si può già pensare alle urne. Ma l'idea di accordo striderebbe già dalla base di entrambi gli schieramenti. Insomma, l'inciuccio con Renzi, utilizzando le classiche parole pentastellate, non piacerebbe né ai grillini né ai diversi renziani. Si è buttato troppo fango e veleno, si può dire fino all'altro ieri, per poter adesso dimenticare tutto con un colpo di spugna e far finta che ora è possibile camminare mano nella mano. Il PD ha inoltre la colpa di aver perso, negli ultimi tempi, i contatti con la base periferica del proprio partito, con i propri tesserati. Lo stesso rischio che sta correndo in queste ore il movimento di Di Maio. Ma a livello locale, cosa ne pensa, appunto, la base? Lo abbiamo chiesto in due interviste separate al segretario politico del circolo del Partito Democratico di Favara, Carmelo Vitello, e al capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, Carmelo Sanfratello. Entrambi non si dicono molto felici di questo probabile accordo nazionale che, comunque a livello locale, non porterebbe ad alcun cambiamento sostanziale. Entrambi staranno comunque a vedere l'evolversi della situazione. A livello locale non cambierà assolutamente nulla. Siamo in maggioranza in consiglio comunale. Come base Movimento 5 Stelle a livello locale non siamo proprio propensi a questo tipo di accordi perché, da parte nostra, la volontà era quella di andare solo e rispettare il voto dei cittadini. Mi auguro che si trovi un'altra soluzione rispetto a questa paventata dai Tg e anche dal capo politico del Movimento. D'altronde sia la base del Movimento 5 Stelle che anche la base del PD hanno mostrato i loro dissenzi su questo tipo di accordo programmatico perché è sulla base dei programmi che deve essere realizzato. Poche settimane fa sembrava tracciata la strada con il Movimento di Salvini, con il centro-destra. Subito dopo, crollata questa possibilità, si ritorna a richiedere dialogo e responsabilità al PD. È chiaro che ad oggi è difficile dare credibilità a questa proposta che ancora più di parlare di programmi si parla di una spasmodica voglia e necessità assoluta di avere un governo in cui ci sia Di Maio che faccia il Presidente. Quindi è proprio questo il tema. Ad oggi quali programmi ci sono? Quali interessi? Sembra che sia finito il reddito di cittadinanza? Sembra che siano finiti i programmi in favore dei cittadini? Sembra che siano stati cancellati con il bianchetto? Ad oggi si parla solo di quello. Per quanto riguarda la gestione della cosa pubblica locale, se per Vitello è giudicata praticamente inesistente, secondo San Fratello la soluzione è quella di trovare lo slancio richiesto già da tempo ad Alba. Stiamo lavorando, c'è stato un confronto sicuramente propositivo con il Sindaco e con con gli altri consiglieri comunali. Siamo nella fase di una ulteriore crescita. Bisogna fare anche un po' di mea colpa perché tante cose non sono state comunicate in maniera corretta alla cittadinanza. Bisogna anche valutare la comunicazione da parte nostra sicuramente. Bisogna fare una valutazione anche a livello di deleghe assessoriali. Dobbiamo valutare chi ha lavorato bene. Sicuramente tutti avranno lavorato però non è sempre il lavoro che porta a dei risultati soddisfacenti. Quindi quello che infatti viene fatto anche in questi giorni è una valutazione da parte nostra e da parte di tutto il Movimento 5 Stelle sull'operato perché ormai sono due anni e dobbiamo cercare di dare risposte più incisive. A livello locale credo che non succeda poco nulla perché a livello locale poco cambia nell'attività di governo che bisogna capire se c'è questa attività di governo. Vediamo che ormai da più da tre mesi l'amministrazione comunale è senza il vice sindaco, senza l'assessore è un ramo importantissimo che è quello dei rifiuti. Viviamo tutte le problematiche dei rifiuti di una città sporca, di una tassazione che arriva negli anni passati ma che ci sarà anche in questi anni a fronte di un servizio che è quasi inesistente e diciamo che l'amministrazione è chiusa nel palazzo che probabilmente dal palazzo di vetro tanto ospicato, comunque tanto promesso in gabbagna elettorale siamo passati ad un bunker a 5 stelle di cui poco o nulla sappiamo. Proprio perché ad oggi manca il dibattito, manca la presenza appunto del confronto con le emittente televisiva e con la stampa che provano a seguire i processi ma assolutamente vedono una chiusura da parte dell'amministrazione. Così come manca la partecipazione, gli strumenti partecipativi che fino a pochi anni fa erano l'emblema e l'impegno di questa città. La curiosità non poteva non passare pure che per la questione della mancata nomina di un assessore in giunta da oltre tre mesi. Potrebbe essere la volta buona per fare un'alleanza M5 SPD? Abbiamo chiesto ad entrambi. Anche qui come a livello nazionale i nostri programmi sono assolutamente lontani e distinti. Siamo in una fase di riflessione e valutazione non soltanto del posto vacante ma dell'intero apparato. Per maggiori dettagli e per altre dichiarazioni vi rimandiamo alle interviste in onda nel corso della nostra programmazione.